Teramo e blu, Teramo è una città a pagamento. Sono le parole usate dal consigliere di opposizione Luca Corona per definire la decisione del Comune di ampliare il numero di stalli a pagamento nel centro cittadino. Dopo quelle di via Sabini, mutate da bianche in blu con il recupero parziale di stalli gratuiti nella vicina piazza del Carmine, il Comune ha proceduto a collocare altri parcheggi a pagamento in via Lemazzini, via Paris, scatenando l'ira di commercianti, residenti e cittadini che frequentano il centro. Teramo sta diventando tutta colorata di blu, non ci sono più parcheggi di mezz'ora, se ritardi qualche minuto hai la multa e non hai il bigliettino di cortesia, dove l'assessore Filipponi più volte ha annunciato che veniva messo, poi bisogna anche capire se questi personaggi, tra virgolette, questi lavoratori, che sono abilitati a fare anche queste multe, perché ricordo che prima la gestione era diversa. Le critiche piovono anche per i costi elevati e la gestione del servizio che prevede il pagamento della sosta dalle 8 alle 20, senza consentire ai residenti o a coloro che vogliono fare una pausa pranzo in centro di poter sostare gratuitamente. E' la fine del commercio Teramo, perché le persone, diciamoci la verità, preferiscono andare ad un'altra città oppure andare al centro commerciale a fare shopping e spesa. Poi non si può dire che tutte le città, Teramo ha una particolarità rispetto ad altre città, sono stati tolti delle strisce bianche, cioè i parcheggi gratuiti, che poi loro fanno il gioco delle tre carte, mettiamo tre posti bianchi, quindi gratis, ne rimettiamo due di coloro, non è rapportato, perché adesso noi faremo una verifica puntuale, faremo una verifica anche sulle distanze dello stallo, se sono a norma, e faremo una verifica anche su questa convenzione che è stata fatta con l'ICELP, perché mi sembra esagerata l'aumento di queste strisce blu.